Facebook e Instagram, eccoci di nuovo live su YouTube con la nostra trasmissione, naturalmente anche quest'oggi faremo tante cose, discuteremo, canteremo, insomma sarà una trasmissione bella ricca di contenuti, come sempre. Per quanto riguarda lo sport, il grande Gigi Blufon ha appeso le carte al chiodo a 45 anni dopo quasi 30 anni di attività e è stato un grande, anche se non è mai stato il MIGLAB, però bisogna riconoscergli che ha vinto di tutto ed è giunta l'ora di appendere le carte al chiodo, perché si sa, quando una macchina non va più, conviene smettere. Detto questo amici, passiamo sicuramente rigorosamente alla musica, dove ascolteremo qualcosa che sicuramente vi piacerà e quindi aspettate un attimo, ci sentiamo tra breve e quindi la linea va alla regia per un breve momento e poi pari torniamo qui, sempre con voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 abbiamo iniziato. parlando del ritiro. di Gigi Buffon. come tanti altri giocatori. in questa stagione. hanno appeso. le scarpe di odio. per quanto riguarda il mercato. per quanto riguarda il mercato. rimane aperta la questione. Luca Cogliuve. vedremo come finirà. insomma salutiamo tutti gli amici. che compiono gli anni. e speriamo di vedervi presto. per quanto mi riguarda. mando un abbraccio a tutti voi. e vi auguro una buonissima serata. ciao a tutti. e alla prossima. nostra live.